Musica Dal 28 al 31 agosto Chiavari ospiterà la 73esima settimana liturgica nazionale. Che cos'è questo evento? Sì, è un evento che verrà coinvolta la chiesa locale di Chiavari in modo particolare, ma anche le chiese della Liguria, ma anche presbiteri, diaconi religiosi e religiose e laici della nostra Italia, di altre diocesi. È un evento che appunto mette al centro la bellezza e l'importanza della liturgia. La liturgia è, possiamo dire, la cifra insieme all'aspetto della catechesi e della carità, la cifra importante della vita della Chiesa. E quindi noi vivremo questo evento celebrativo con delle relazioni, con anche momenti di celebrazioni eucaristiche, di preghiera, che ci vedrà tutti coinvolti nella riflessione proprio della bellezza e dell'importanza della liturgia. Soprattutto all'indomani della lettera apostolica di Papa Francesco, Desiderio e Desideravi, che ci invita a dare questa priorità alla liturgia attraverso la formazione liturgica, non soltanto per i presbiteri, ma anche per tutto il popolo di Dio. Quanto è importante la formazione liturgica? Ma è importante perché noi attraverso la liturgia incontriamo e facciamo esperienza del Cristo risorto. E quindi nel momento in cui abbiamo una formazione, una conoscenza della liturgia, possiamo realmente sentire ancora più vivo e presente il Cristo risorto nella nostra vita. E quindi la formazione passa attraverso non soltanto dei concetti, ma la formazione passa attraverso anche un'esperienza viva, quindi di Cristo, della Chiesa, e quindi la formazione del popolo di Dio, perché la liturgia è azione del popolo. Quindi è necessario che il popolo sia formato alla liturgia, attraverso anche la conoscenza di ciò che la liturgia ci fa vivere. Ecco, chi sono gli attori della liturgia, coloro che appunto attuano a questa azione liturgica? Ma gli attori siamo tutti noi che celebriamo, quindi non soltanto chi presiede, e quindi il presbitero o il vescovo in caso particolare, in alcune celebrazioni, ma tutto il popolo di Dio e l'Assemblea che celebra. E quindi gli attori siamo tutti, ognuno con il suo compito, con il suo ministero, con il suo specifico. Possiamo dire che in un tempo in cui il numero dei sacerdoti diminuisce un po' in tutte le rettea diocesane, avere un'adeguata preparazione può essere un aiuto anche proprio per il celebrante, per chi presiede la liturgia? Ma senza dubbio, ma la formazione parte proprio dalla nostra identità di battezzati. In quanto battezzati noi non possiamo non essere a conoscenza di ciò che poi celebriamo. Quindi certo i sacerdoti diminuiscono, le vocazioni diminuiscono, ma questo comporta anche una sorta di collaborazione anche da parte dei laici, con i loro impegni pastorali, con il loro servizio anche di ministri istituiti come lettori, accoliti o ministri servizi della comunione. Però ecco, tutti insieme abbiamo bisogno di comprendere quanto sia importante per noi l'evento celebrativo di Cristo risorto, della Pasqua del Signore. Ecco, queste giornate della settimana liturgica saranno una sorta di full immersion in quella che può essere la formazione. Poi come coltivarla, custodirla nel tempo? Sì, queste giornate ad agosto dal 28 al 31 saranno delle full immersion perché ci saranno delle relazioni, ci saranno dei momenti celebrativi, però poi tutto questo sicuramente sarà motivo di arricchimento personale, quindi per tutti coloro che parteciperanno, perché poi porteranno tutto quello che hanno vissuto, vivranno ad agosto, nelle loro comunità, nelle loro realtà, nella chiesa e quindi nella chiesa dove appunto operano questi convennisti. E quindi diventa un'occasione questa per portare ciò che hanno, ciò che riceveranno, poteranno portarlo appunto nelle loro comunità e quindi essere a loro volta anche operatori nell'ambito della liturgia. Come si sta preparando la nostra diocesi ad accogliere questo evento che porterà a Chiavari i rappresentanti delle comunità diocesane di tutta Italia? Penso che la preparazione sia su due livelli. Un primo è accogliere un evento straordinario dentro l'ordinario, quindi dentro un cammino formativo liturgico celebrativo che noi già facciamo come diocesi e che dobbiamo continuare a vivere e implementare. Il secondo è la preparazione più specifica della settimana liturgica che stiamo vedendo in questi giorni con il segretario del Caldo, Mauro Di Benedetto, e che vedrà poi nelle prossime settimane e nei prossimi mesi una preparazione di tutta quella che è la logistica della settimana, quindi la possibilità a tutti i convennisti che vengono dalle diverse parti d'Italia di poter alloggiare nella nostra bella Liguria e dall'altra parte anche curare un po' quello che è l'aspetto più formativo. Quindi il tema che vogliamo dare a questa settimana, sicuramente liturgia e bellezza sono due temi che si parlano molto anche secondo i recenti documenti del Papa e che saranno temi protagonisti della settimana e poi poter dire un po' quali possono essere i relatori e come il tema liturgico nello specifico può essere declinato come aiuto ai sacerdoti, agli operatori pastorali e a tutti coloro che vivono la liturgia. C'è già stato un momento di formazione rivolto principalmente ai cantori con Monsignor Marco Frisina. Ci saranno degli altri appuntamenti di avvicinamento a questo evento di agosto? L'evento con Monsignor Frisina è stato un evento sì rivolto ai cantori ma che poi ha visto partecipare tante altre persone ed era proprio in quest'ottica nel creare sempre di più una sensibilità a tutte le varie parti della celebrazione e della liturgia. Abbiamo poi vissuto la giornata dei ministeri proprio poche settimane fa che ha visto la partecipazione di tante persone. Il desiderio nel nuovo anno è insieme da un lato di poter lavorare con il Cal proprio per preparare la diocesi a questo momento specifico ma anche con gli altri momenti per i ministri straordinari, per i cantori, con la scuola di teologia rinnovata, con i corsi che sono previsti nel nuovo anno, proprio aiutarci a vivere questo momento straordinario nell'ordinario della formazione. Una formazione liturgica è imprescindibile rispetto alla vita della nostra diocesi come di ogni diocesi. Quindi penso che questo evento straordinario che sarà prezioso darà ancora più vita al cammino quotidiano della nostra chiesa chiavarese. Possiamo dire sin d'ora che l'appuntamento di fine agosto non è rivolto soltanto a chi già svolge un servizio ma proprio a tutti. Certamente sì, cioè l'invito alla settimana liturgica è un invito aperto davvero a tutti, sia a chi è un operatore pastorale più direttamente parlando, sia a chi lavora nel campo liturgico a diverso titolo, ma anche per tutti coloro che desiderano davvero approfondire un aspetto determinante della nostra fede, quale l'agire liturgico nella vita del credente. Quindi si aspetta davvero la partecipazione di tutti.